La giornata della memoria comincia a svanire, oggi proprio grazie ai social media. Buongiorno e bentornati al caffettino, sono Mario Moroni e come ogni giorno alle 7.30 qui mi trovate presente per parlare con voi di novità, news e tutto quello che cira attorno al nostro mondo del business. Per oggi facciamo un'eccezione, mica tanto perché parliamo di social, perché parliamo di social ma all'interno del giorno della memoria. Il 27 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo appunto questa giornata che viene ricordato il 27 gennaio del 1945 quando le truppe sovietiche dell'armata rossa arrivarono da Auschwitz, svelando al mondo l'orrore del campo di concentramento, uno dei luoghi chiaramente più importanti e più tristi del genocidio nazista. Ma se ci pensate bene, soprattutto ad oggi, ma anche in ambiente, come dire, vaccino, c'è tanto, c'è tanto di negazionismo. Pensate a questi dati. Secondo una recente ricerca Eurispes dell'ottobre 2020, praticamente ci dice che in 15 anni la percentuale di chi non crede all'orrore della Shoah è passata dal 2,7% al 15,6% e con un 16% di questi che sostiene che la persecuzione sistematica degli ebrei non ha fatto poi così tanti morti. Insomma, ricordiamoci, e soprattutto oggi nel giorno della memoria, che i social network non hanno memoria e spesso all'interno di questi social c'è chiaramente l'odio, l'intolleranza ed è più facile, chiaramente l'abbiamo visto anche con le campagne politiche di molti, è più facile passare odio e mala informazione. Insomma, i social non sono la realtà, anche se è vero che ogni tanto la condizionano, per cui nel giorno della memoria, oggi, 27 gennaio del 2021, ricordiamoci di avere memoria. E questo è il punto. Per cui se vedete qualche post strano, qualche commento particolare, bene, voi sapete che Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, hanno vietato questa tipologia di post negazionisti e li rimuovono, ma altrettanto interessante è rimuovere, secondo me, delle persone a cui non si può fare cambiare idea e qui si sentono probabilmente sole, si sentono ignorate da tutti, essendo ignoranti. Bene, rimuoviamole, non diamogli spazio. Insomma, nel giorno della memoria i social potrebbero sempre di più avere anche un ruolo centrale. Pensate a un prossimo futuro, quando invece dal 2,7 al 15,6% di italiani magari saremo passati dal 15,6% al 30,x%. Beh, questi possono entrare in Parlamento, questi possono farsi eleggere, questi possono governare. Parliamo anche di tematiche attuali di crisi di governo. Insomma, non sottovalutiamo tutte le cose che in realtà fondamentalmente devono essere ricordate. Ricordiamoci che chiaramente la storia viene sempre scritta dai vincitori, e per cui attenzione a chi potrebbe vincere la storia e la comunicazione legata ai social media dove, come sappiamo benissimo, non c'è controllo e non c'è memoria. E con questo concludiamo anche il caffettino di oggi. Vi auguro una fantastica serata, giornata, mattinata, non so quando lo state ascoltando, ma venitemelo a dire sul canale Telegram Mario Moroni Canale. Noi ci sentiamo domani, ore 7.30, sempre qui al caffettino.